Salve a tutti amici, bentrovati da Stefano Ghetti. Cambia radicalmente lo scenario meteorologico un po' su tutta la nostra penisola. Salutiamo, come si suol dire, l'estate e adesso ci occupiamo un po' della stagione autunnale, del resto siamo nel mese di settembre, il mese di transizione che passa proprio dalla stagione estiva a quella autunnale. È vero, in questi ultimi anni abbiamo vissuto spesso un mese di settembre abbastanza caldo, l'estate settembrina, in questo momento di estate settembrina sì abbiamo avuto qualche giornata, adesso ancora abbastanza mite, ma adesso la musica cambierà perché siamo in attesa dell'arrivo di un vortice ciclonico accompagnato da aria fredda, dunque tempo che va peggiorando nelle prossime 24-48 ore e soprattutto termometri che vanno decisamente calando, passeremo a temperature davvero di stampa autunnale e all'insegna chiaramente il meteo di un generale peggioramento, attendiamo addirittura anche le prime importanti nevicate sulle Alpi, anche a quote relativamente basse per il periodo, parliamo di quote prossime anche ai 1400-1500 metri e non è nemmeno da escludere vedere qualche fiocco di neve anche sulle cime più alte dell'Appennino settentrionale. Questa situazione ci accompagnerà sicuramente fino a tutta la giornata di venerdì, poi ci sono buone notizie per quanto riguarda il fine settimana perché già da venerdì un po' il tempo andrà migliorando al nord, sabato il tempo sarà più tranquillo al centro nord e un po' incerto al sud, domenica dovrebbe essere dischietto un po' per tutta l'Italia ma dicevo attenzione alle temperature perché soprattutto a cavallo del weekend anche di notte in prima mattina farà davvero freddino al nord nelle vallate interne anche del centro. Difficile sapere adesso se la prossima settimana il tempo si riprenderà, ovviamente ci aggiorneremo. È tutto, a più tardi.